Voterò per Emma Bonino perché conosce le istituzioni sia italiane sia europee, perché ha il senso delle istituzioni, perché è una convinta democratica e una sincera europeista, perché è laica, perché è garantista, perché si è sempre impegnata sul tema dei diritti umani e per i diritti delle donne. Mi pare che siano ragioni più che sufficienti per votare per lei. Viva Emma Bonino.